Siamo nuovamente dietro le ali della macchina i cavalli della seconda, vi ricordo un anziani sul doppio chilometro, cavalli affidati ai gentlemen, Nuchelia, Dorio, non partente, ne rimangono in otto, The Dream Rivarco, solitario in seconda fila, l'alternativa a Twig Griff, almeno al totalizzatore. Gradatamente l'allineamento va a completarsi e prende velocità la macchina. Twig Griff come da copione va al comando nei confronti di Terrible Blessed, si ritrae Nisaki che va a parcheggiare in quarta posizione e così la favorita 1,71 in chiusura al comando e l'eldegrado B affidata al buongallo al comando al completamento del lancio. Fila indiana e il lancio se ne va in 15,1 e di fronte tira i remi in barca il leader, anzi la leader, e così si raggruppano meglio e viene via Scarpena Jet numero 6 che ha corso molto bene l'altro giorno. 31 e i 400 e Scarpena va a far pariglia con Terrible Blessed al comando Twig Griff che affronta da lì nella seconda curva e completa i 600 iniziali in 46,5 con una frazione in 15 abbondante. Si va un po' di conserva, Twig porta un po' dalla parte sua il cronometro però tutto sommato l'andatura per la categoria è brillante. 1,2 e mezzo il mezzo miglio e davanti alle tribune Twig, Terrible Blessed, Naxos del Ronco a largo Scarpena pedinato da Dream Rivarco. Si chiude il primo chilometro in 17,3 sul mio. Io vi ricordo che prendo da start a start. Vieni via a Dream Rivarco e si affaccia su Scarpena Jet. Twig Griff al comando, 16 impiegata, affronta da leader il penultimo rettilineo mentre Dream Rivarco trova traffico infinito e muove Naxos del Ronco. Paletto dei 600 finali, buona la frazione in 14,7. Twig ha al comando, Naxos ha le prese con Terrible Blessed e gli altri stentano a progredire. Si va sulla curva finale, il miglio in 2,1 e 9, 2,2 scarsi e Twig Griff al comando. Ne mantiene una e mezza importante di margine. Retta d'arrivo, il buongallo ha al comando con la sua Griff che mantiene nettamente la testa e viene anche stappato. Va di dentro e cerca l'aggancio ma ormai il palo è vicino. Twig Griff si salva di poco ma nettamente. E nonostante l'ora legale, il buongallo non si dimentica di cantare e quindi si salva da Nissaki che arriva a bomba ma non c'era più tempo. Ha fatto un po' paura Nissaki, bravo il giovane gallo, a mantenere le redini freddo freddo, lui insulchi ma molto freddo. Per il terzo l'uno di Terrible Blessed, 1,15,7 il tempo al chilometro, 1,71 per il buongallo che anche con l'ora legale canta e canta meraviglia.